Musica Abbiamo condiviso con Rino Foschi un progetto che lega passione e lavoro e abbiamo immaginato un percorso che possa durare nel tempo che è quello che in questo momento ci manca ma che speriamo riuscire ad avere. Credo che finalmente Palermo conoscerà i numeri riusciremo ad avere ben chiaro qual è il quadro della società che purtroppo ha tanti debiti e pochi crediti quindi la mia impressione è che ci vuole, ho usato il termine con qualcuno di voi il principe azzurro, in questo caso il principe rosa nero la speranza è che qualcuno veramente ne abbia le possibilità che io naturalmente non ho, io ho avuto la possibilità di lavorare e dare il mio piccolo contributo però mi faccio in qualche modo garante con la collaborazione naturalmente del Palermo Calcio e degli uffici amministrativi di riuscire ad avere una fotografia chiara e certa di quelli che sono i debiti perché la mia impressione, e l'ho vissuto nel contratto diciamo che abbiamo sottoscritto, che i numeri non siano ancora chiari pubblicamente fatemi dire perché quello che chiederò anche al Palermo se lo riterranno opportuno è che questo quadro, questa certificazione deve essere nota a tutti Rinaldo Sagramola è un mio caro amico interviene esclusivamente perché ha a cuore le sorti del Palermo come qualsiasi altro tifoso Rinaldo ci sta aiutando perché ha amministrato la società per tanti anni credo bene da quello che ho sempre saputo ha detta di tanti quindi ha l'esperienza, la competenza che evidentemente non ho io perché io sono un semplice tifoso lui sicuramente ha delle competenze per comprendere i conti che riusciremo ad avere i debiti con i procuratori con tutto quello che cercheremo di comprendere e basta mentre Enrico Preziosi è uno dei tanti che hanno mostrato passione, interesse chiaramente per loro è un'attività per certi versi loro chi ha una squadra di calcio ha questo tipo di attività quindi magari possa essere lui possa essere qualcun altro devo dirvi non lo so in questo momento siamo soli in questo momento siamo soli noi palermitani tutti quelli che vogliono intervenire infatti vi ringrazio tutti diciamo vorrei sfruttare questo momento non per me ma per il Palermo cioè Palermo ha bisogno dei palermitani quindi imprenditori, commercianti, tifosi, politici tutti ci devono aiutare noi ci proviamo poi ecco bisogna vedere chi ha la forza, la volontà, l'interesse 10 euro, 100 euro, 2 milioni e 800 mila euro ognuno deve fare secondo me quello che può fare in questo momento quindi se riusciamo a organizzare in tempi oramai purtroppo brevissimi di 20 giorni la possibilità su un conto corrente dedicato del Palermo Calcio dedicato al pagamento degli stipendi perché tra un mese, poco meno, anzi 25 giorni gli stipendi devono essere pagati quindi abbiamo risolto un problema ma io sono responsabile nei confronti della mia azienda che se tra un mese non si pagano questi stipendi io, Palermo rischia di fare una brutta fine e io nei confronti della mia azienda però ho perso 2 milioni e 800 mila euro abbiamo ottenuto la possibilità condivisa con il presidente Foschi e con la signora De Angeli di avendo accesso ai documenti la possibilità noi o chi per noi di acquisire le quote entro il 13 di marzo se non viene nessuno il Palermo tra un mese non potrà pagare gli stipendi quindi il mio sogno è che arrivi qualcuno che possa salvare il Palermo e quindi io possa continuare eventualmente a svolgere la mia attività lavorativa Rino Foschi e Dena De Angeli non ho dubbi che tra 30 giorni se arriva qualcuno venderanno le quote a questo qualcuno